Partita la seconda serie, i tempi con i migliori accrediti nelle corsie centrali, nella quarta, quinta e sesta corsina, per loro circa un secondo di differenza, quarta, quinta e sesta corsina. Vediamo il rappresentante Atletica Brescia che però è arrivata sotto l'ostacolo. Riesce con un buon finale. A più del 1, 07, 06.